Il diritto è un sistema di regole per la soluzione di conflitti di interesse fra gli uomini. Parliamo di sistema perché l'unità elementare del diritto, cioè la norma giuridica, non concorre singolarmente all'obiettivo principale, quindi la soluzione di conflitti di interesse, ma insieme ad altre norme, quindi un insieme di norme, concorrono collettivamente all'interesse generale, che è quindi quello di risolvere i conflitti di interesse fra gli uomini. Parliamo anche di relatività del diritto, in quanto il diritto non rimane statico, ma è dinamico e si adatta all'evoluzione, al tempo, al contesto sociale, al contesto economico, allo spazio. Parliamo in particolare del diritto romano. Il diritto romano copre il periodo che va dalla fondazione di Roma, quindi dal 753-54 a.C., fino alla morte di Giussiniano nel 565 d.C. Per quanto riguarda il diritto romano, questo si forma su due opere fondamentali, le istituzioni di Gaio, che sono un'opera a carattere didattico, e il Corpus Iuris Civilis di Giussiniano. Il diritto romano è un ductus culturale, ciò vuol dire che è alla base anche dei diritti moderni, infatti, basti pensare che le nozioni di diritto romano nella sua forma romano-bizzantina hanno sopravvissuto in Grecia fino al 1941. Ed è proprio dal diritto romano che scaturiscono anche il codice napoleonico e il codice civile italiano del 1942. Tuttavia, come abbiamo detto prima, dato che il diritto romano copre un periodo così lungo, quindi di circa tre giri secoli, è necessaria una spartizione temporale. Quindi, suddividiamo noi il diritto romano in quattro periodi. Abbiamo il diritto arcaico, diritto preclassico, classico e postclassico. Il diritto arcaico va dall'inizio fino alle leggi di Cinesessie del 367 a.C. Qui siamo nel periodo che va dalla monarchia alla repubblica. Il diritto, in questo periodo, si fonda sulle usanze, quindi sui mores. Successivamente, a questo periodo, abbiamo il periodo postclassico, che va dal 367 a.C. fino ad Augusto, nel 27 a.C. Abbiamo il passaggio dalla repubblica al principato. In questo periodo, si abbandona quasi l'attaccamento alle usanze e ai mores e si ha un'interpretazione del diritto più laica, quindi il diritto si laicizza. Il periodo seguente è quello classico, che è il periodo di massimo splendore del diritto romano, che coincide con il periodo augusteo. Appunto, va da Augusto fino alla fine dell'età dei Severi, che viene detta così perché è in quest'epoca che vivono i cosiddetti giuristi severiani, che sono Papiniano, Paolo e Ulpiano. In questo periodo c'è creatività, originalità e i giuristi mirano l'eccellenza. Infatti, anche in questo periodo, che vive Gaio, cioè l'autore dell'istituzione, come dicevo prima. Questo periodo è molto importante anche perché alla fine di questo periodo viene concessa da Caracalla la Costituzione Antoniniana, che è un grande passo per il progresso, in quanto con questa Costituzione viene concessa la cittadinanza, non più solo ai cittadini romani, ma a tutti gli abitanti dell'impero. E poi vi è un periodo di decadenza, che è il periodo del diritto postclassico. Che è il periodo del diritto postclassico. Si ha una volgarizzazione del diritto. L'imperatore diviene Dominus. Si isola tuttavia il diritto a Giustinianeo, che va quindi dal 527 al 565, che è uno dei migliori periodi. In Oriente si continua infatti a studiare il diritto a Costantinopoli, sino a che si giunge al Corpus Juris Civilis, che contiene il cosiddetto Digesto 533, che è un'opera importantissima, in quanto è proprio da questa che il diritto nasce con la scuola bolognese, con i glossatori intorno all'anno 1000. in Nero e a Curso, appunto, hanno interpretato il Digesto, e da lì è nato il diritto comune. Il diritto si fonda su tre regole fondamentali, che tiene un piano. Questi progetti sono i progetti fondamentali del diritto, e sono vivere onestamente, non recare danno ad altri, e dare a ciascuno il suo. Le caratteristiche fondamentali del diritto sono tre, e sono il carattere dell'autonomia, della coercibilità e dell'universalità. Parliamo di autonomia, in quanto vi è una separazione tra il mondo religioso e il mondo giuridico, quindi tra IUS e FAS, appunto IUS, il diritto, e FAS, che è la religione. Questo carattere dell'autonomia è riuscito a trasmettersi anche fino al nostro ordinamento moderno, in cui abbiamo una libera chiesa, il libero Stato. Il secondo carattere è quello della coercibilità, nel senso che ad ogni violazione della norma giuridica corrisponde, in conseguenza, è la combinazione di una sanzione. Il terzo carattere, invece, è quello dell'universalità, perché, appunto, come dicevo prima, il diritto romano è un ductus culturale che ha posto le basi per molti degli ordinamenti moderni. Dal punto di vista dell'etimologia, diciamo che la parola diritto viene dal latino, IUS, a cui però vengono dati diversi significati. Lo si associa spesso al significato di giustizia, oppure al significato di IOS, che significa salvezza, ma può significare anche tribunale, oppure al tribunale processo, oppure al plurale possono significare anche gli iscritti dei giuristi. E nel più paradossale dei significati è anche una zuppa di cereali che viene appunto paragonata al diritto, perché questa zuppa di cereali era talmente buona e trasmetteva talmente tanta armonia da poter essere paragonata al diritto nella quale tutte le norme appunto sono in armonia. Se volessimo fare una classificazione del diritto, lo suddivideremmo in diritto pubblico e diritto privato. Il diritto privato a sua volta viene diviso in diritto naturale, delle genti e civile. Il diritto naturale è quello secondo cui la natura insegna a tutti indistintamente. Quindi, per esempio, nel diritto naturale ogni uomo nasce libero. Però capiamo bene che proprio per questo motivo spesso il diritto naturale potrebbe trovarsi in contrasto con il diritto delle genti o con il diritto civile. Infatti, il diritto delle genti, che è quella parte di diritto civile inerente ai rapporti tra straniero e straniero o tra cittadini e straniero, prevede la schiavitù. Quindi capiamo che è in contrasto appunto con il diritto naturale. Il diritto civile, invece, riguarda i rapporti tra cittadino romano e cittadino romano. È un diritto mutevole in quanto deriva da fonti scritte e da fonti non scritte. Le fonti non scritte sono i mores, mentre le fonti scritte sono, ad esempio, i senato consulti, i plebisciti, le costituzioni degli imperatori, gli eviti dei magistrati, i rispondi dei giuristi. Talvolta al diritto civile si affianca il diritto pretorio, detto in latino ius honorarium. Il diritto pretorio si occupa di intervenire laddove il diritto civile si mostra difettivo. Infatti, per capirlo meglio, potremmo fare una proporzione in senso matematico e dire che il diritto civile sta al diritto pretorio, come ad esempio un semaforo, sta a un vigile urbano. Infatti, il diritto pretorio prevale sul diritto civile. Il pretore, per agire, ha a sua disposizione delle azioni, cioè può concedere un'azione oppure può negarla. Parliamo quindi di denegatio azionis nel caso di negare un'azione oppure di azione sin factum nel caso in cui il diritto pretorio estendeva la tutela a situazioni che di fatto il diritto civile non prevedesse. Un altro strumento a cui il pretore poteva ricorrere era lo strumento della finzione, come per esempio nel caso dell'usucapione, in cui si finge che sia decorso il tempo utile ad usucapire. Suddividiamo il diritto ancora in diritto oggettivo e diritto soggettivo. Il diritto, in senso oggettivo, indica l'insieme di norme giuridiche che prescrivono alle persone determinati comportamenti, mentre in senso soggettivo il termine indica la pretesa di un soggetto che gli altri seguono il comportamento che la norma prescrive. I rapporti tra gli uomini che prevedono da un lato un diritto soggettivo e dall'altro un corrispondente dovere giuridico, quindi un diritto oggettivo, formano appunto un rapporto giuridico. In particolare la categoria dei diritti soggettivi si divide in due sottocategorie che sono i diritti soggettivi assoluti, cioè quelli validi erga omnes, quindi nei confronti di tutti, e poi i diritti soggettivi relativi che possono essere fatti valere nei confronti di una o più persone determinate o determinabili. Sempre in ambito di diritto in generale distinguiamo ancora la capacità giuridica e la distinguiamo dalla capacità di agire. Infatti la capacità giuridica è l'idoneità di un soggetto ad essere titolare dei diritti e dei doveri, quindi ad esempio gli schiavi sono esclusi. Ci differenzia appunto dalla capacità di agire che invece la capacità di un soggetto di compiere atti giuridici, quindi per esempio uno schiavo non può avere capacità giuridica ma può avere invece capacità di agire. I diritti reali I diritti reali sono quei diritti soggettivi assoluti che quindi hanno una valenza erga omnes cioè sono validi verso tutti e sono in particolare quei diritti che hanno una diretta incidenza sulle cose. Infatti l'espressione stessa deriva dal latino ius ind re che letteralmente significa diritto sulla cosa. Per parlare e capire appiene i diritti reali è necessario innanzitutto compiere una classificazione. Il più eminente dei diritti reali è il diritto di progetto.